per accendere un fuoco in genere si pensa all'accendino ai fiammiferi e comunque almeno la carta possiamo accendere un fuoco anche semplicemente con materiale completamente naturale dai da un bastoncino un altro bastoncino fatto in un determinato modo che noi chiamiamo base e poi con un manico che può essere in pietra o può essere in legno non ha importanza dopodiché facendo ruotare questo piolo qui all'interno di una base otteniamo talmente tanto calore che si produrrà del carbone che piano piano prenderà fuoco si produce del calore vedete inizia a fumare questo calore aumenta sempre di più fino a che non si raggiunge una temperatura in cui la polvere nera diventa magicamente carbone acceso questa fiamma la andremo poi ad inserire in una struttura del fuoco ovviamente preventivamente realizzata